Ben ritrovati a tutti amici di YouTube stamattina andremo a comprare il bloccadisco facendo un onboard sulla moto di Roby ossia un Liberty 125 e poi forse farò un tutorial su come alzare il codino della moto questo è il mio amore come già saprete adesso andiamo su da Roby abbiamo l'impianto stereo aspetta mostra la mia cassa aspetta oh minchia fammelo tenere bene il cellulare che se mi cade già me l'hanno appena riparato che è questo bello un mondo la senti a bici pure pure porca troia fa freddo però arriva il piano che c'ho freddo minchia tanè in ferma tutto quel matto sopra e sotto come andare di qua? se non lo faccio non lo faccio ma non mi mangio E' altissima Però se scaldi a manetta Mi apri, apri Che cazzo fa gli arrivi? Guarda avanti E' altissima Finita la canzone E' finita la canzone E' finita la canzone c'è un cellulare madonna di dio il cacchio mi vuole le lacrime ahahah ahahah caraletta 125 vecchissima schifosissimo dai manza ah no ah va cazzo vuole è sopra vuoi andare di sopra 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 no è sopra ma tu dove vuoi andare? qua qua qua? non è l'ultimo ultimo bello lì eh oh è tutto per noi Harry siamo in un parcheggio ti cala mano pesante senti la moto po 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 ma come è una fia cazzata? guardate che pauli che bello no no la sonia è andata prima che si chiuderebbe Harry ti sta riprendendo però nooo eccoci qui felici del nostro acquisto cos'è che hai detto Robby? c'è una chiave che fa la luce? c'è una che fa la luce ci scacci blu eh ma cosa servono? sempre per la stessa cosa? sì lo vediamo già all'opera sulla moto di Harry ah ma puoi sentire rumori che si chiude però certo secondo me comunque Mazza se ne accorge che non gli ha dato i soldi eh non me l'avrà chiesto perchè ha detto così poi quando finisce tutte le guide gli richiedo tutti insieme appunto lui con gli scherzetti è proprio bravo è vero? fammi salire su questa bestia va anzi cominci a farla retro eh fammi un attimo una scasata è un 1200 è un 200 Henry oh Robby mi devi aprire le pedaminchie sempre che me le chiudi eh ok spento pronto non fare il pazzo sì a che cosa vuoi fare? ahahah non prendere un'altra volta quella buca lì così quella che mi ha fatto saltare prima mi ha fatto anche bestemmiare lì così lì così non so se questo si potrebbe fare però io l'ho fatto anche quello vabbè allora sei scusato lo fa lui? eh mi chiara lento qua? ti darà la precedenza? sì vai 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 lì vabbè vabbè lì che vabbè 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 E' roba anziana Non ha le distanze Faccio lo stop Sembra che possiamo andare Porca madonna Entra a sinistra Mi sembra in silva Fammi stoppare Torni indietro? Madonna madonna scappa subito Ho giocato da berevitare Minchia Che smiga Destra Ma l'altra volta Quando siamo tornati nel sconto Dove c'è sconto? Eh? Questo Qua c'è studiore Ma le caramelo Che sfiga però Era la polizia E' quella lì proprio la rompi con i coglioni Sì sì Proprio la rompi con i coglioni Con i capelli rossi Una puttana di merda Minchia muro il camion Madonna Aspetta Harry Vai vai Eh? Che smoglio Ah sì sì Infatti Alla prima qua C'è sconto Non c'è sconto Alla primasnittura Non s'assuna 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 irgend pote Chima N connects Avevo più paura però quando stavo dietro quando ho avuto la polizia Minchia Adesso vedo io Abbiamo fatto subito il retro fronte Grazie a tutti Grazie a tutti